Nuova protesta degli operatori sanitari della ASR di Bari. Dopo aver preso di mira l'azienda sanitaria e l'assessorato alla salute, medici, tecnici e infermieri in scadenza di contratto hanno manifestato dinanzi al Consiglio regionale. Un centinaio di operatori che rischiano di restare a casa già da fine luglio. Secondo l'USPI, il sindacato di categoria, i mancati rinnovi dei contratti manderebbero in tilt la sanità del barese. Molti dei precari infatti ricoprono ruoli chiave nelle aree critiche degli ospedali, rianimazione, pronto soccorso, cardiologia. Una delegazione guidata dal segretario USPI Brescia è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio in trona e dai rappresentanti di maggioranza e opposizione. Dopodiché c'è stato un vertice ristretto con l'assessore alla salute Gentile che ha chiesto qualche giorno per approfondire gli aspetti tecnici della questione. La richiesta è di prorogare i contratti almeno fino a tutto il 2013 anche perché, fa notare il sindacato, si tratta di precari storici che vivono da anni il continuo balletto del licenziamento e della riassunzione. Secondo l'USPI, la Regione Puglia dovrebbe introdurre criteri univoci per garantire i posti di lavoro senza far ricorso di volta in volta a procedure diversificate come la mobilità dall'esterno. Se non arriveranno risposte soddisfacenti, avverte Brescia, la protesta tornerà a martedì prossimo in occasione della nuova seduta di Consiglio.